Ad un anno dall'emergenza Covid, con una crisi economica con effetti devastanti, 11 mesi di fermo ed una situazione debitoria eccessiva, è sempre più forte la preoccupazione degli imprenditori della ristorazione dei pubblici esercizi per il mancato sostegno del Governo in questo momento di grande crisi, innescata dalle restrizioni anticontagio. Sono alcuni dei punti esposti dal MioItalia, il Movimento Imprese e Ospitalità del Servizio dell'Oreca, che domani mattina si ritroverà a Roma per una manifestazione in piazza. Un'occasione per ribadire in ambito nazionale la necessità di attivare azioni che possano cambiare passo e dare una boccata d'ossigeno al comparto dell'ospitalità a tavola e non solo. Per coniugare la sicurezza sanitaria con lo sviluppo economico in questa fase della pandemia è necessario, ha affermato Carla D'Acunto, segretario del Mio Campania, da una parte chiudere selettivamente i territori provinciali, dall'altra ricominciare ad aprire la sera i locali lì dove invece i dati infondano fiducia. Bisognerebbe arrivare a normare a livello nazionale misure chirurgiche in ambiti territori più ristretti, ha dichiarato Paolo Bianchini, presidente del MioItalia. Domani un'altra manifestazione a Roma, l'ennesima per quanto riguarda il nostro settore. contemporaneamente ci sono le interlocuzioni parlamentari, adesso anche provinciali, regionali e comunali. Siamo esausti, questo lo sai, ce lo siamo già detto tante volte, però si continuano a commettere gravissimi errori. Per quanto riguarda il nostro settore non è più una questione di indennizi, ristori o comunque come li vogliono chiamare loro, questa è una questione veramente di apertura, di riaperture selettive a zone, a contagi, quel che sia, ma ci devono riaprire. È passato un anno, siamo nelle stesse medesime condizioni dello scorso anno e questo che cosa dimostra? Non fa altro che dimostrare l'approssimazione e l'incompetenza di questo governo. Non è una questione politica o di appartenenza politica, è una questione di incompetenza. Non è possibile che dopo un anno noi siamo ancora in queste condizioni, ancora ci costringete a scendere in piazza a protestare. Mentre il governo pensa ad un'ulteriore stretta in prossimità anche della Pasqua, un lockdown, una zona di rientro anche prima delle 22, voi chiedete con forza un piano vaccinale per la categoria? Esattamente, è l'unica soluzione. Io sono disposta ad aprire il mio ristorante a chi è vaccinato, previa presentazione di documento di vaccinazione e di richiamo o a chi si è appena fatto il tampone ad esempio. Anche questa potrebbe essere un'altra regola. Chi ha fatto il tampone entro i tre giorni dalla prenotazione, dal suo accomodarsi al ristorante, va bene, siamo disposti, siamo disposti a qualsiasi cosa pur di titolare le nostre attività commerciali perché veramente dopo un anno è diventata ancora di più una situazione insostenibile da parte nostra, insostenibile. Grazie.